Benvenuti in questa recensione approfondita del Feiyu Scorp Mini 2, un gimbal che promette di rivoluzionare in modo in cui catturiamo video e foto. Uno strumento per tutti, ad un prezzo accessibile e nell'ambito dei creatori di contenuti, sia amatoriali che professionisti, diciamo che si colloca proprio in uno di quegli strumenti che fanno ad hoc per coloro che cercano una stabilizzazione ottima in un viaggio magari di vacanza o anche per creare magari dei contenuti per un canale YouTube o anche per proprio divertimento. Il Feiyu Scorp Mini 2 si posiziona in questo panorama come un prodotto che possiamo confrontarlo con altri giganti del settore come l'Osmo Mobile 6 di DJI ma anche per il Flow State di Insta360. Io in questo canale comunque si inizia dicendo che non chiedo né soldi né abbonamenti ma vi chiedo semplicemente un aiuto, un like al canale e un'iscrizione al mio video se ancora non siete iscritti. Solo questo, se volete, mi date una mano semplicemente così e vi porto prodotti davvero particolari e oggi parliamo di lui. È per tutti, via! Iniziamo con il cuore del Feiyu Scorp Mini 2. La sua versatilità è incredibile. A differenza di molti dei suoi concorrenti è progettato per essere veramente Only One. Può facilmente accogliere una vasta gamma di dispositivi dalle mirrorless agli smartphone, dalle fotocamere compatte alle action cam. Insomma, possiamo usarlo per qualunque dispositivo abbiamo. E questo è il suo forte. Questa capacità di adattarsi a diversi dispositivi, diciamo, è fondamentale per chi crea dei contenuti che magari cambiano a seconda dei tipi di attrezzatura che abbiamo per prendere, per catturare termine più corretto, l'immagine perfetta. Con lui noi possiamo stabilizzare tutto anche se abbiamo un'action cam e non solo lo smartphone. La caratteristica dello Scorp Mini 2 è il suo sistema di stabilizzazione su tre assi. Lo Scorp Mini 2 va oltre la capacità di fornire riprese fluide e professionali. Infatti lo fa anche nelle situazioni più movimentate. Il suo design ergonomico, e iniziamo un po' a vederlo insieme, eccolo qua, un'impugnatura davvero molto, molto funzionale. Guardate, è leggerissimo, è facilissimo da manipolare e riusciamo a dare un'angolazione alla ripresa davvero incredibile, sia in altezza che in basso, riducendo al minimo laffaticamente durante le sessioni delle nostre riprese. Inoltre, il tracciamento con l'intelligenza artificiale dello Scorp Mini 2 rappresenta un'altra innovazione significativa di questo prodotto. Con semplici gesti, gli utenti infatti possono andare a attivare il tracciamento del soggetto, rendendo la attura dei movimenti spontanei o la realizzazione di video dinamici molto, molto funzionali. Questa funzionalità si distingue in modo particolare quando si va utilizzare ovviamente lui, ovvero uno smartphone, o anche un action cam, dispositivi appunto frequentemente usati per loro formati pratici e accessibili. Il tracciamento AI, cioè ovvero con l'intelligenza artificiale, non solo eleva le qualità delle riprese, ma apre anche nuove possibilità creative, permettendo di concentrarsi assolutamente sulla composizione piuttosto che sulla gestione del dispositivo stesso. Diciamo che andando a confrontare questo prodotto, ovvero lo Scorp Mini 2 con l'Osmo Mobile 6 DJI o con il Frostate di Insta360, troviamo che sebbene entrambi offrono eccellenti soluzioni di stabilizzazione e tracciamento AI, ovviamente solo e esclusivamente per gli smartphone con lui, con lo Scorp Mini 2, si supera un po' questa limitazione. Infatti si offre innanzitutto una soluzione più robusta e flessibile per una più gamma ovviamente di dispositivi. Come detto possiamo metterci tutta una serie di dispositivi in più rispetto a lui e questo lo rende ovviamente una scelta ideale per chi cerca un gimbal che possa andare a crescere le esigenze creative e con lui si passa di fatto a una soluzione di continuità tra vari tipi di fotomere e contesti di ripresa. In termini di design e costruzione il Feu Scorp Mini 2 è a mio avviso davvero molto interessante, è molto bello, guardate un po', impressiona con la sua leggerezza e durabilità. Il corpo combina resina polimerica e alluminio, ovvero è un alluminio di grado aeronautico. Ha un bilanciamento, una resistenza, davvero una portabilità incredibili. Questo gimbal è un compagno di viaggio ideale, facile da trasportare in uno zaino senza sacrificare ovviamente le prestazioni. Mentre vi racconto queste cose ovviamente vi sto facendo vedere le immagini che spero vi interessino di lui. Guardate in ogni particolare ha questa funzione incredibile che permette al gimbal di girare su se stesso completamente a 360 gradi e cosa che è bene chiarire è un prodotto che si attesta intorno a 200 euro di prezzo e dunque è un prezzo decisamente abbordabile per chiunque voglia iniziare usare un gimbal già più serio proprio a livello di gimbal. Credo che sia un prodotto che si sposa veramente bene con la qualità prezzo prodotto. Guardate un po' qua anche veramente la qualità costruttiva dei materiali è veramente ben fatta ma ci sono le uscite. Vedete qui è veramente un oggetto un gran bell'oggetto. Questo scope mini 2 per l'uso con smartphone e action camp è davvero fantastico. La transizione dal dispositivo da un dispositivo all'altro è semplice grazie a un sistema vedete rapido e usando l'esclusiva app fail on e sblocca ulteriori funzionalità come il tracciamento oggetti, la fotografia gestuale e la modalità panorama. Per i videomaker che utilizzano principalmente questi dispositivi lo scope mini 2 offre una combinazione imbattibile di funzioni di stabilizzazione e funzionalità creative che fanno ben oltre i tradizionali limiti del genere. Lui ha una discreta stabilizzazione anche sull'asse z ho fatto un confronto tra lui e la ripresa dello smartphone guardate un po'. Visto? Non male. Oltre ciò lo scope mini 2 si distingue per la sua interfaccia utente intuitiva, infatti ha qua uno schermo touch da 1,3 pollici che rende semplicissima la navigazione tra le varie impostazioni e modalità e questo aspetto è fondamentale per chi cerca non solo prestazioni di alto livello ma anche una facilità d'uso che non distorga di fatto dall'atto creativo e rimanendo nell'atto creativo ovvero parlando di creatività il gimbal non si limita alla mera stabilizzazione infatti grazie al modulo di espansione gli utenti possono anche aggiungere accessori come per esempio microfoni oppure anche luci a led guardate io ho questa eccola qua mi sono preso questa che si aggancia si attacca sopra e insieme ad altri gadget arricchiscono ovviamente le possibilità di ripresa e il miglioramento di ripresa rendendo lo scope mini 2 una vera e propria piattaforma creativa mobile. io appunto come vi ho detto mi sono preso questo e ho deciso di avvalirmi appunto di una luce che trovo utilissima quando abbiamo poca luminosità e questa ha una funzione a tanta forza e mi rende la scena luminosa proprio in direzione dello smartphone. In conclusione il Feu Scorp Mini 2 si rileva a un dispositivo eccezionale polivalente e secondo me anche potente ed è capace di andare a soddisfare le esigenze dei creatori di contenuti più esigenti. Che siate dunque dei videomaker amatoriali alla ricerca del vostro primo gimbal o professionisti del settore in cerca di una soluzione robusta affidabile soprattutto portatile e facile da trasportare questo Scorp Mini 2 offre una combinazione di funzionalità qualità costruttiva e prestazioni che secondo me lo posizionano ad un diciamo a livello top per questa specifica categoria. Dunque che dire innanzitutto vi ringrazio per aver seguito questa recensione se vi va scrivetemelo nei commenti magari vi porterò presto un nuovo prodotto neonato e sto testando oppure anche un confronto sul campo tra osmo mobile il 6 e l'ista 360 flow e il Feu Scorp Mini 2. Che dite? Lo facciamo? Fatemi un po' di like e commentate che magari vi faccio facciamo un bel confronto a tre. Dunque chiudiamo questa recensione dicendo che un prodotto come questo è decisamente ben fatto ha un sacco di funzioni ma soprattutto ha la possibilità di gestire con i suoi moduli ovviamente lui tutta una serie di strumenti veramente che vi danno il guadagno di poter usare più tipi di camere action camere compatte oppure anche smartphone che è quello che i più ovviamente usano e avete visto nel mio video tante immagini realizzate ho fatto tanti test con il mio smartphone semplicemente perché è l'uso più comune di tutti e il gimbal è più avanzato rispetto agli altri perché ha diverse funzioni ovviamente la prima una migliore stabilizzazione sull'asse z però quando si cammina che trovo non perfetta ma discreta ci vediamo ad un prossimo video ovviamente nel canale ciao dai bighi grazie a tutti